Perché la grande maggioranza della gente soffre la vecchiaia? Perché non sa che la vecchiaia è il periodo supernormale della vita umana. Ma che significa? Che la vecchiaia è una preparazione alla vita spirituale. Se si intuisce questa funzione della vecchiaia, gli ultimi anni della nostra vita fisica possono essere vissuti molto più degnamente. Perché la grande maggioranza della gente soffre la vecchiaia? Perché non sa che la vecchiaia è il periodo supernormale della vita umana. Ma che significa? Che la vecchiaia è una preparazione alla vita spirituale. Se si intuisce questa funzione della vecchiaia, gli ultimi anni della nostra vita fisica, possano essere vissuti molto più degnamente.